Buon pomeriggio, benvenuti a New Roads, le nuove strade della musica folk, oggi in compagnia di Luciano Ravasi. Luciano Ravasi è un artista molto particolare ed un uomo molto particolare, è infatti insegnante, laureato in lettere e si occupa di insegnamento anche di musica e canzoni dialettari. I cove Luciano Ravasi si occupa da anni di musica folk, di musica dialettale e la sua origine è in particolare bergamasca, lo possiamo un po' considerare come il papà del nostro New Roads. E' indubbio che il messaggio che rimane ascoltando le canzoni di Luciano Ravasi sia quello di un forte senso di appartenenza alla terra d'origine, che ognuno di noi dovrebbe imparare ad apprezzare. Non possiamo dimenticare, cosa importantissima per il Ravasi, il suo amore per i Beatles, ai quali ha dedicato tanto tempo e tanta dedizione. Da questo amore, unito all'amore per il dialetto bergamasco, è nata l'E del B, per i non orobici E di Albino, parodia della più celebre Lady B. E dopo questa bella puntata popolare, storica, dedicata a Luciano Ravasi, che comunque è in uscita con un nuovo album, New Roads e Omar Pedrini vi danno appuntamento a sabato prossimo, sempre sulla stessa rete. Ciao! Buonito del Lecce è il matador, che fa conteggi, i torri, i torri. Buon pomeriggio!